la regata della vecchia volpe ha fatto molto rumore la vittoria nella prima prova del mondiale star di portocervo da parte di enrico chieffi e di maglio corsi perché chiaramente enrico chieffi insomma non non andava in star ad alto livello da un bel po di tempo pur essendone stato diciamo cambiare il mondo tempo fa e fa evidentemente un altro lavoro nel senso che che gestisce la nautor e quindi fa da tempo un altro lavoro è piuttosto impegnativo per cui il fatto che lui si sia presentato al mediale star e abbia vinto la prima prova è stata ritenuta una prova chiaramente del suo grande talento che è sicuramente che in dubbio è in dubbio che lui sia molto bravo abbia molto talento così come in dubbio che la sua possibilità di vincere la regata o comunque la regata con continuità è legata alle condizioni di vento cioè non può ovviamente è stata una regata con vento variabile e leggero a quel punto chi ha intanto non ha comunque una grande esperienza come a lui e come anche il prodiere ovviamente che comunque sulla star fa la differenza a mio mio parere può trovare chi ha l'ispirazione a quel giorno lì e poi chi è obiettivamente molto forte ha un grande talento può trovare la propria giornata di di gloria e che può anche può anche ripetere per carità se per caso le condizioni rimangono queste chiaramente puoi anche fare una bella serie di risultati può anche in teoria anche vincere un mondiale ma chiaramente è fortemente improbabile che tu possa vincere un mondiale quando poi le condizioni diventano più impegnative da un punto di vista fisico e diventano anche più diciamo più regolari no a quel punto viene fuori forzatamente chi ha una preparazione specifica più puntuale più costante no che ha lavorato negli ultimi anni sulla barca e su se stesso per migliorarsi ovviamente è nettamente favorito rispetto rispetto appunto una vecchia volpe no che che trova la velocità quel giorno lì al massimo livello e trova l'ispirazione però di base gli manca un quel pedino di velocità che ad alto livello è fondamentale cioè se tu fai una regata a basso livello poi uno con talento può vincere tutto ma dove comunque i talenti dei regatanti sono di alto livello ovunque e ai titoli della gente che ci ha lavorato più di te soprattutto negli ultimi vent'anni e probabilmente ce l'ho fatto più sicuramente poi dopo se riesce a rimanere nei dieci hai fatto a mio parere un risultato sportivo notevolissimo cioè veramente di altissimo livello cosa adesso per il momento è nei dieci Enrico e se continua a esserlo secondo me è un risultato di di altissimo livello non ci sono scorciatoie come nessuno in nessuno sport di alto livello non è che puoi ripresentarti a parte che Enrico non è che si sia ripresentato proprio così cioè se comunque è preparato si è preparato con dei tempi di una persona che lavora e chiaramente con la determinazione non di andare e di andare a vincere il mondiale ma di fare di divertirsi e di poter regatare ad alto livello certamente non si è preparato come si può essere preparato Kuzniarewicz oppure Diego Negri Diego Negri che pur non andando in star tantissimo però insomma comunque è rimasto nella classe per un sacco per un sacco di tempo negli ultimi anni vabbè vedremo come andrà il proseguo ciao buona giornata